Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio Facciamo gli auguri al Rimini Calcio ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo E allora andiamo ragazzi Mal di trasferta, Nelmarca arriva l'undicesima sconfitta in stagione del Rimini ma questa volta la befa ancora più maggiore la partita di fermo ricorda a tratti quella di Bolzano con Scotti chiamato all'intervento super nel corso della ripresa dal relativo corner nasce gol partita di un Arturo Lupoli finito dal teatro della Serie A alle sabbie mobili della Serie C nel mezzo un'immediata reazione come la settimana prima con un doppio palo colpito da Palma e Buonaventura che sanno di mala sorte la classifica divina e preoccupante la squadra specie in esterna paga ultimamente l'unica disattenzione di gara ma nell'ordine vediamo il match con le immagini fornite da Eleven Sport primo a fondo targato fermana da punizione battuta da Giandonato Lupoli si lamenta per una trattenuta in area di rigore il repremio sta più chiaramente l'episodio il direttore di gara fa segno in questo caso di proseguire fermana che si rende nuovamente pericolosa a calcio piazzato Giandonato squadra al centro l'invio della difesa bianco-rossa viene neutralizzato da Massini che deposita la sfera al lato la replica del Rimini perviene dopo la mezz'ora con questa conclusione di Alimi che non c'entra il bersaglio squadra a riposo sullo 0-0 a 51 arriva l'episodio chiave da punizione Giandonato il tiro di Missini è respinto da Scotti sulla traiettoria della sfera c'è Lupoli che chiama un intervento superlativo il portiere che si rifugia in corner dalla bandierina la fermana passa Scotti ribatte il colpo di testa di Sperotto ma non la può questa volta sul tappi vincente di Lupoli 1-0 e 4-100 in stagione per l'ex Ascoli Treviso il repreci mostra per l'appunto il gol che risulterà decisivo ai fini del risultato il Rimini subito il colpo trova l'immediata reazione passo un minuto e Nava serve in area palma che centra il palo alla destra dell'estremo di casa sulla ribattuta Buonaventura può ribadire in gol il pallone ma centra un'incredibile traversa divorandosi a questo punto il pareggio a 75esimo il tiro dal limite di Sperotto viene bloccato senza problemi da Scotti all'89esimo dall'angolo Nava colpisce malamente il pallone di testa speranze di pareggio che tramontano con questo tiro da dimenticare avvenuto dalla distanza mentre dall'altra parte in pieno recupero la fermana va vicinissima al raddoppio con Ward Raiden apprezzabile lo stop ma non la conclusione fermana che comunque confeziona la vittoria riscattando la sconfitta dell'andata dimostrando come la matematica sia a volte spietata 18 gol all'attivo varsi punti attuali in classific e a livello di matematica Rimini da stasera pesa come un macigno quel benedetto 1 infatto di vittorie esterne il migliore Scotti torna a titolare a distanza di tempo para qualunque cosa venga spedita in porta palloni, lattine, fruttini ma nulla può sulla zampata di Lupoli lasciato solo soletto davanti a lui proprio Lupoli è il migliore dei suoi con questo Rimini gli avversari si trasformano da brutti Anna Trocco e Lincini Lupoli di professione fa l'attaccante ma 4 di 18 gol dei canarini portano in questa stagione la sua firma